Nemmeno l'emergenza sanitaria è riuscita a fermare l'attività dell'Associazione Gabriel a Bari che si occupa della umanizzazione delle cure in oncologia. Giovedì sera, nello splendido scenario del circolo tennis Bari diretto da Nicoletta Virgentino, la presidente dell'Associazione Antonella D'Aluiso ha presentato il libro dell'Associazione dal titolo Il Tempo del Cuore. Numerosi ospiti si sono alternati con tante performance musicali ed anche di ballo, con particolare attenzione dunque a brani in cui il settore della salute è primeggia. Tra l'altro poi una coreografia che ha simboleggiato l'appartenenza alla terra di Puglia scandita dai suoni di tamburelli salentini, le danze del passato, il tip tap di Fred Astaire e Ginger Rogers ed un estratto della colonna sonora del film Mamma Mia. Per Antonella D'Aluiso è forte importante aver condotto questo importante evento, il primo in presenza dove si sono alternate tante storie e tanti racconti di vita. Per non dimenticare mai di aiutare il prossimo. Nino Siena, World News 24. Bye.